Ciao astronomici! Uno dei più grandi problemi nella fotografia moderna è il gestione di livello. Oggi voglio mostrarvi come l'Eagle Computer, con il suo solo un design, propone la migliore soluzione per il gestione di livello, riducendo tanto il numero e la lunghezza di livello necessario per il tuo settore del telescopio. Iniziamo! Un setup di astrofotografia inizia molti dispositivi che hanno bisogno di essere potati e controllati da un computer. Monti, camera, focuser, due heaters, motore del telescopio, generatore di flotte, e più. Cada di questi dispositivi ha bisogno di connessione di potere e di dati. Questo significa che potete avere molti cabli di potere che riuscite a diversi adattori di potere e molte cabli USB che connessano tutto a un computer. Se stai usando un computer standard per controllare il vostro setup, ecco il problema. Quando il tuo telescopio si riuscita, se sia sluendo un target o trattando un obiettivo, tutti quei cabli si riuscite anche. E se non sono gestiti bene, possono essere tangenti, mettere connessioni che causano disconnessioni, o limitare la velocità di movimento. Per soluzione questo problema, abbiamo disegnato l'Eagle per essere molto più che solo un computer. è anche un abuso centrali per le mani e il mani. Con l'Eagle, instead di riusciti per larghi cabli di un computer esterno e gli librassi, tutti i vostri dispositivi in basso alla EAGL, proprio sul tuo telescopio. L'Eagle avviene molti porti di potere, quindi che puoi poterliare il tuo piatto, camera, il pilone di filtra, il focuser e tuoi preparati direttamente, senza necessarmi molti uniti di potenza. Aggiungere un cibo di potenza di potenza della tua batteria o di potenza di potenza e tutti i dispositivi di 12V possono essere potenti trattato. E viene con molti porti USB per permettere di collegare tutti i vostri dispositivi senza la necessità di abbi extra. Questo significa che, con l'Eagle installato sul tuo telescopio, tutti i cibo si muovono naturalmente con lui, eliminando tensioni, schiacciate e disconnessioni. E' per questo l'Eagle è l'ultima soluzione per migliorare il gestione di cable in astrofotografia. Per più contenuti che ti aiuteranno a esplorare l'università come un pro, abbiatevi al nostro canale e... Clear skies! Al prossimo episodio